Mi parto al momento del porto, sto già riprendendo Attenzione, la paziente è maschia, è invasione! Attenzione, c'è un ragazzo degli sbatti che ci sta buttando! È invasione di caldo! Invasione! Questo è invasore tutto, l'invasore più inutile del mondo che non se la fa nemmeno Devo stare via! Premio simpatia, signori, premio simpatia, premio simpatia della partita continua Partita continua, ragazzi, non si spegne